lenti fumatori i lenti fumatori buongiorno carolina red flake con eric di corner and deal uno small batch quindi un piccolo raccolto un tabacco monocultura dalla carolina del nord un'edizione limitata di fine 2020 se non sbaglio abbiamo lo stesso virginia rosso del carolina red flake che abbiamo già visto trovate qui sul canale con l'aggiunta di un peric invecchiato 18 anni san james peric quindi il peric originale dalla louisiana qui avete anche tutti i dati del raccolto e tutto l'indicazione del peric il tipo di raccolto andiamo quindi a vedere l'apertura della latta e questo tipo di raccolto che è un 100% USA FCV del 2018 poi ci sono i gradi di adif di h top grande grade virginia scusate contenuto di zuccheri 8.33% e il peric è di san james foglie del san james dal 2008 quindi 2008 il peric andiamo ad aprire troviamo il solito incartamento vintage blend corner and deal cerchiamo di capire se saranno flake interi oppure rotti come ricordo erano quelli del carolina red flake normale ecco vediamo delle splendide fettine ben impilate all'apparenza morbide ma più intere l'umidità sembra giusta sono morbide e abbastanza grasse ma assolutamente non umide vediamo delle parti più scure che sono ovviamente il peric e delle parti più marroni rosse e sono appunto questi questi virginia della carolina sono veramente belle bellissime a vedersi il colore non si capisce ma è più rossiccio e scuro di quanto sembra ecco forse con questa luce non si coglie appieno ma sono davvero belle 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 e profumate e c'è poco da dire un tabacco favoloso strepitoso un virginia peric che si ricorda e si farà ricordare ha delle caratteristiche uniche per certi versi può ricordare i virginia di stampo inglese cioè quelli di samuel gewitt in questo caso il san james flake di samuel gewitt più che altro per certe caratteristiche di profondità e di unione che hanno i virginia con i con il peric comunque si distanzia da quello non è assolutamente uguale va a crearsi un prodotto unico un prodotto unico che ho descritto bene sarete voi a dirmelo ma ho descritto sul blog moreno fumando la pipa punto blog spot punto com non lo so vi metto qui in sovraimpressione e vi metto sotto nella tendina nella descrizione il rimando a quell'articolo scritto quindi qui ve lo descrivo brevemente ma più che altro vi porto la mia esaltazione perché è un tabacco che ho fumato in maniera continuativa cioè se ha un difetto questo tabacco è che finisce subito state attenti perché finisce subito seconda cosa che subito mi salta da dirvi è il profumo ha un profumo delizioso delle note dolci di cioccolato mischiate a note più profondi profonde e accese di peric in un'unione perfetta e allettante anche nei nei profumi terza cosa è un tabacco che brucia benissimo comunque voi lo carichiate sminuzzato a metà intero nella pipa giusta ovviamente vi farete una fumata eccellente è buono nelle pipe piccole nelle pipe medie nelle pipe grandi forse ha una dimensione perfetta si esprime in maniera secondo me migliore nelle cimni o nelle mezze cimni ecco non c'è bisogno che siano così alte così estreme come questa è sufficiente anche una mezza cimni o comunque sia un fornello stretto e alto senza essere troppo precisi vi dà un pelo di evoluzione in più non è un tabacco altamente evolutivo un po' come non lo era questo qui andate a vedervi la recensione la trovate sul canale nella playlist tabacchi virginia come questo qui è un prodotto abbastanza diretto io stamattina ero in giro per boschi l'ho fumato per boschi non è un tabacco che necessita grandi attenzioni grande coinvolgimento emotivo da parte nostra ecco come questo qui è un tabacco diretto ciò non significa che non abbia evoluzione ce l'ha verso il finale si raggiunge un'unione davvero magica tra virginia e peric e si sviluppa un'aromaticità intensa ci sono delle note vegetali terrose a cui si aggiunge ma davvero in unione ecco da virginia e peric si sviluppa questo questa aromaticità profonda e accesa in più ecco e questo lo si avverte di più nella parte nella parte finale ma è una fumata soddisfacente anche a livello nicotinico non è fortissimo ma non è neanche un tabacco blando appunto lo si avverte dall'inizio alla fine è una fumata buona dall'inizio alla fine il peric lo caratterizza moltissimo da un sottofondo leggermente fruttato si parla di frutta frutta matura frutta anche secca ma ha anche una sua espressione nelle nelle note quelle più pepate ecco i profumi come vi ho detto come vi ho già detto sono eccellenti è un tabacco che manco a dirlo mi è piaciuto tantissimo ora io non ricordo cosa avevo dato al carolina red flake normale ma l'avevo forse menzionato in una in una statistica in un sondaggio che abbiamo fatto sulla chat telegram dei lenti fumatori del tubo alla quale vi invito ad iscrivervi link sempre sotto in descrizione io l'avevo votato come miglior tabacco come miglior virginia del 2020 se non sbaglio e questo è sicuramente uno dei migliori virginia e peric che io abbia provato ovviamente di saint james flake di samuel gewitt ne ho fumato di più quindi lo conosco di più questo qui è stata un'esperienza continuativa ma molto intensa e sentita e quindi mi è piaciuto tantissimo ecco ho fatto un errore ne ho presa una sola latta il pipatorio in america me l'aveva detto riprenderne di più però ci sono sempre sono sempre tante le cose da prendere e io non ne ho presa di più vabbè comunque sia spero verrà riproposto e anche questa è un'edizione small batch quindi probabilmente verrà riproposta ovviamente con il raccolto e quindi con le caratteristiche di quel raccolto e di quell'anno in cui verrà riproposta anche questo qui anche il carolina red flake è stato riproposto ovviamente sempre monoraccolto sempre red virginia sempre della carolina del nord ma ovviamente ha delle caratteristiche organolettiche che si possono giustamente discostare da questa edizione questa secondo me è una cosa interessante si è detto tante volte che si è ovviamente succubi anche dell'hype di questi prodotti però diciamo è un bene per a chi ea chi piacciono ea chi è appassionato e chi ha la fortuna di riuscire a trovarli a reperirli diciamo è una bella cosa provare un solo tabacco un solo raccolto in piccole quantità e quindi per una descrizione più dettagliata e vi rimando al blog dove ci sono le recensioni scritte di questo e altri tabacchi li troverete che forse anche leggendolo viene meglio insomma sia più le parole scritte rimangono di più in mente e lo potete anche consultare un domani potete tenervelo lì salvarvelo e rileggerlo ecco il video non sempre si ha tempo e voglia di guardarsi oggi 10 minuti ma normalmente 15 minuti di video 13 20 quando mi dilungo ecco la mia idea è quella anche il blog serve anche a quello a fermare di più le mie degustazioni le mie parabole degustative ea renderle un po più stabili ecco basta vi saluto la pipa che sto fumando è la cimni ascorti natural che campeggia anche sulla mia foto profilo è una pipa che fumo poco ma quando la fumo davvero mi accorgo di quanto sia bella di quanto esprima bene i tabacchi virginia e di quanto la mia scelta di quanto questa sia una delle mie pipe preferite ha ovviamente delle caratteristiche che non la rendono una pipa facilissima da fumare prima di tutto perché ha questa questo fornello nei punti dove va ad assottigliarsi ha delle pareti ovviamente sottili e quindi tende a scaldare ecco è l'unica pipa che mi è costata un po di tempo in fatto di rodaggio ecco perché comunque sia occorre rodarla bene occorre che si formi bene sulle pareti la la crosta perché possa proteggere la radica come vedete il lavoro è venuto bene perché c'è una bella crosta omogenea e quindi anche la fumata va bene si arriva fino al fondo con piacere però è una tip è una pipa che non va fatta scaldare per il resto vi saluto iscrivetevi alle nostre pagine scrivetemi nei commenti cosa ne pensate se avete avuto la fortuna di fumare questo tabacco in generale se no possiamo parlare di virginia e peric in generale se vi piacciono queste miscele a me piacciono tantissimo all'inizio a 3-4 anni fa non erano le mie miscele preferite ora invece praticamente nel da che è iniziato il 2021 sto fumando quasi esclusivamente virginia e peric un abbraccio un saluto a presto da moreno iscrivetevi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi non vi costa niente se guardate il video l'iscrizione a me serve da resoconto è una piccola soddisfazione siamo intorno ormai ai 5000 iscritti o forse li abbiamo passati è importante veder crescere il canale quindi se guardate abitualmente i miei video mettete l'iscrizione che tanto non vi costa niente ciao da moreno a presto